La Chiesa non è rifugio per gente triste, la Chiesa è la casa della gioia, e chi è triste trova in essa la vera gioia. Lo ha detto il Papa questa mattina, prima della preghiera dell'Angelus, recitata dalla finestra del suo studio che dà su Piazza San Pietro, insieme a decine di migliaia di fedeli. In questa terza domenica d'Avvento, detta anche Gaudete, risuona l'invito a gioire, ha ricordato Papa Francesco, perché il Signore è vicino. Il messaggio cristiano si chiama Evangelo, cioè Buona Notizia, Annuncio di Gioia, e la gioia del cristiano trova ragione nel sapersi accolti ed amati da Dio. Dobbiamo aver coraggio e non temere, ha aggiunto il Papa, anche di fronte alle difficoltà e alle nostre debolezze, perché grazie alla misericordia del Signore possiamo sempre ricominciare da capo. Ma alcuno può dirmi, no padre, io ne ho fatto tante, sono un gran pecatore, sono una grande pecatrice, io non posso rincominciare da capo. Sbagli, tu puoi incominciare da capo, perché? Perché Lui ti aspetta, Lui è vicino a te, Lui ti ama, Lui è misericordioso, Lui ti perdona, Lui ti dà la forza di ricominciare da capo. A tutti! Quanti hanno incontrato Gesù lungo il cammino, ha concluso il Papa, sperimentano nel cuore una serenità e una gioia di cui niente e nessuno potrà privarli. Dopo l'Angelus, Papa Francesco ha salutato i tanti bambini di Roma venuti per la tradizionale benedizione dei bambinelli, le statuine del bambino Gesù. Quando pregherete davanti al vostro presepe, ha detto, ricordatevi anche di me, come io mi ricordo di voi. Bravi!